Ho bisogno di cibo ma la Caritas non mi hanno aiutato. Così negli scorsi giorni una 56enne aveva bussato la chiesa di Santo Stefano di Giussano. Accolta dal prete, la donna ha raccontato di essere appena stata al centro di assistenza per chiedere degli aiuti ma che non le era stato dato nulla. Le servivano soldi per comprare medicina. Il prete ha accolto la donna in casa poi spiegando che avrebbe potuto darle solo generi alimentari e offerta che la signora ha accettato. Così, mentre il sacerdote si recava a fare la spesa per acquistare del cibo, la donna è uscita e è rimasta ad attenderlo fuori dalla chiesa fino al suo rientro. Poi, ricevute due buste piene di generi alimentari, ha ringraziato e si è allontanata. Forse insospettito del fatto che la Caritas avesse potuto dire no alla sua richiesta d'aiuto, il paroco allora ha controllato la chiesa e si è accorto che mancava la cassetta delle offerte in metallo. Al sacerdote non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri di Giussano, i militari visionati e filmati dell'impianto di video sorveglianza hanno ricostruito la dinamica e hanno identificato la donna. Si tratta di una 56enne incensurata di origini calabresi da tempo residente a Giussano, che quel giorno, prima di bussare alla porta della casa parrocchiale, era entrata di nascosto in chiesa e aveva tentato di scassinare la bussola delle offerte, che, sebbene all'interno avesse potuto contenere poche decine di euro, ha un valore di 1200 euro. Visto che non era riuscita ad aprirla, ha avvicinato la cassetta delle offerte alla uscita della chiesa e in un secondo momento l'ha prelevata, caricata nel bagagliaio e se n'è andata. Una volta identificata, la 56enne è stata denunciata alla procura della Repubblica di Monza per furto aggravato. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato la bussola in metallo che nel frattempo la donna aveva forzato e svuotato delle offerte.